Ciao ragazzi, oggi giro lungo, giro anti-covid, partenza da Modena, direzione Scerra, vediamo che sentieri fare per arrivarci, e via, ben su, eccoci arrivati a Maranello, scendiamo in direzione Bogliano, voi tagliatini, ma mi sembra di conoscere la persona all'orizzonte, ehi Phil, ciao, buongiorno, 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 che bello, esatto, dove vai? Buongiorno, posso aggregare? Buono buono, ma perché t'ho visto l'accelerata, bello, bello, troppo caldo, Sinistra! Eh vabbè dai, si troverà, no, no, si fa! Wow! Meno male che c'è tutto qui! Abbiamo sperato la concorrenza, adesso è tutto libero! Abbiamo sperato la concorrenza, adesso è tutto libero! Ai, niente, già piedi! Ciao! I'm not smart! Uffa! Sempre duri! Siamo alla fine della salita, dopo un po' di stagli scenditi! Sì, si rinfreschiamo! Sì, perché io caddo! Bene, eccoci arrivati! Siamo arrivati, un po' di disceglie! No, no. Wow, 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 lignatona. Vai, vai. Calendo verso Serra. Vai, figli, grande. Guardate il tagliattino. Direzione Serra. Direzione Villa Palini. No, no, no. Cosa? Dio, buon Paolo. Se poi si stacca lì. Invece, ma stai bene con quella giubile rosina. Buon pollo, buon pollo. Buon pollo, buon pollo. Tu sei lui? Eh. sempre più d'alto sempre dura i ragazzi via avanti li lasciamo andare sono un po' troppo scomodi dai 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 che ti devo filmare tanto anche noi andiamo piano troppo umido vai Phil metti il turbo wow spegnativa qua oh che spegnativa vai Phil dove hai messo l'alto l'alto dove sei? qua grande dai vedi alla fine hai visivi che non ce la facevi? ahah 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 ah 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 guarda che si vede la benità vedete che si vede la benità eh ahah 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 vado a serra vado a serra adesso è un buon festino abbiamo incontrato anche Andrea grande Andrea facci la scelta va piano che però si combatterà il copro che si vede la benità non ahaha ah ah Wow Si va dentro uno non esce più da lì Leggera smaltina Wow 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 bravo bravo effettivamente stressata Oh! Altino! Molto sterso! Oh! Oh, cambio telecamera Oh, 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 oh Annalona Sassa Ramazzo Sosper Uah Bella lì L'ho comprata anch'io Attiva pista trea Wow, bellissimo questo sottoborco Bello, bello, bello salve il ruolo salve il buon pettino bello è un picco bordo ma io ho capito il reverse guardate la gamba di me lo devi dare più di da nooo no oh wow 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 Oh, ah! Oh! Time out! Oh, il ragazzo è vero! Grazie. 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 Ti manca, alzi la mano. Ti manca, alzi la mano. Uff, uff. Aiuto. Ultimo pezzo della scelita. Molto duro. Uff, uff. Eccoci a Paeto. Eccoci a Paeto. Eccoci a Paeto. Eccoci a Paeto. E viva le foglie. Eccoci a Paeto. 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 Eccoci bravo. È l'ultimo? Sì, l'ultimo. Del mio gruppo russo. L'ultimo. Grazie Grazie Super bombassone No, fa il fago, non lo voglio Oh Relaty Oh 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 aaaaaaau uuuuuuuuuuuuuuuu è leggermente rotta Gassi mostri Spettacolo Spettacolo una super bella wow 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 Benissima! Ah, è finita la giostra! Oh, 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 è finita la giostra!